Gravi reati di corruzione, tentata concussione, abuso di ufficio, falsità in atti pubblici e in materia edilizia ed urbanistica. All'alba, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Teramo, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito otto misure cautelari restrittive della libertà personale, quattro custodie cautelari in carcere e quattro arresti domiciliari a Giulianova e a Teramo. Sono finiti in carcere Maria Angela Mastropietro, dirigente comunale del settore lavori pubblici del Comune di Giulianova, suo marito Stefano Di Filippo, imprenditore edile, Andrea e Massimiliano Scarafoni, fratelli imprenditori edili di Giulianova. Agli arresti domiciliari sono finiti Sergio Antonilli, collaboratore del Di Filippo, Nello Di Giacinto, imprenditore giuliese, Filippo Di Giambattista, della Giulianova Patrimonio e Carmine Zippilli, funzionario dell'ufficio tecnico appalti dell'Asl di Teramo. L'operazione denominata Castrum è partita nel 2016 da presunti appalti, pilotati e corruzione da parte di funzionari pubblici ed è stata condotta dai magistrati Luca Sciarretta e Andrea De Feis. Ma qual era il meccanismo? Funzionava che abbiamo un funzionario di Giulianova che si avvaleva del proprio conice perché aveva un'impresa di costruzione e quindi solo chi si avvaleva di quell'impresa di costruzione poteva ottenere piacere, fori e provvedimenti. E poi abbiamo un altro funzionario dell'Asl che naturalmente faceva una serie di false sempre per ottenere vantaggi personali per lavori anche questi in gran parte inesistenti. Lei ha detto che non avete guardato in faccia a nessuno? No, noi non guardiamo mai in faccia a nessuno. Ho detto che Giovanni Falcone diceva che bisognava, visto che oggi ricordiamo la sua strage, che le persone si connotano non con le belle parole ma con i fatti. Noi, la Procura di Teramo, la Guardia di Finanza hanno dimostrato oggi con i fatti il proprio impegno per quanto riguarda i reati nei confronti della pubblica amministrazione. Intanto i finanzieri stanno interrogando tutto il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Giulianova perché l'indagine Castrum continua, non è ancora finita e non si escludono nuovi arresti.